E' una messa, anche in versione 4 per i 5-9, che gli ha la vita. E' arrivata a posta, mia. Una nobiltà antica. Il re e la regina soggiorneranno da lui. Che cosa? E cosa ha detto, signor Farrow, di quello che l'aspetta. E' già tutto pulito? Aspettavo il maggior domo di alcune mestre. Io non sono un maggior domo, sono il real paggio d'anticamera di sua mestre. In un mondo che cambia. Mi ha chiuso della parola? Non sono, è detto un attimo. Mi ha chiuso della parola? Non so, è detto un attimo. Ma che cosa è una regolazione? Da un po' nelbi. Altezza di A. Prima TV Canale 5. Martedì in prima serata. Bentrovati a questo appuntamento. Durante il ponte dell'Imarcolata sarà tutto un via vai di perturbazioni che porteranno su Italia il chiuso maledetto, con tanta pioggia e anche delle nevitate su una bassa ponta sulle regioni settentriche. Per maggiori dettagli, ve lo ricordo, potete consultare il nostro sito. Mette o buco. Lo ricordo Grazie a tutti. Grazie a tutti.